Salve a tutti e benvenuti ad una nuova parte della mia serie su Crash Bandicoot 4 It's About Time Prima di cominciare a parlare di questa parte vi prego di considerare di lasciare un mi piace E di iscrivervi al canale, di commentare anche più in là nel video Qualunque cosa vi venga più spontaneo commentare Cosa facciamo oggi? Prendiamo le reliquie di platino in tutti i livelli delle cascate della tranquillità La mia linea temporale preferita Questo è il primo livello, fai una giravolta, ho dato un voto 5 Perché è davvero davvero semplice Questo è il mio primo tentativo credo Comunque secondo... oh siamo lì Quindi niente è facilissimo Questo livello è molto fattibile ovviamente Per tutti i livelli di questa linea temporale non ho considerato la difficoltà di utilizzare a cano Perché a questo punto del gioco per prendere le reliquie di platino Comunque dovrete aver imparato a utilizzare tutte le maschere dello spazio-tempo Come si può fare meglio Ok questa frase è stata molto discendente Ma... Niente, fate bene con a cano e tutto è facile Veramente non ci sono problemi Cercate di tenervi da parte le maschere Ma anche se in realtà non serve praticamente a niente Cioè potrete anche perderle Ma non ci sono neanche tante occasioni per perderle Forse con i tnt Quando c'è la parte di a cano Beh vabbè Cercate di non perderli Andate avanti E tutte queste cose In fai la giravolta Falla un'altra volta Saranno tutte semplici Queste casse finali forse sono un po' complicate Non lo so In generale è una difficoltà abbastanza standard L'ho detto tante volte Lo so Lo ripeto Ma abbiamo finito questo livello Con un tempo di 1,10 Ogni volta si perde un secondo alla fine Vediamo quanto ho fatto Sì 1,10 e 27 Che è un tempo sufficiente Penso di essere andato vicino ai tempi delle reliquie di platino Non so esattamente quanto Quanto sia questo tempismo Però vabbè Ma adesso siamo nel livello Che è fantasticamente chiamato In quel modo fantastico Scusate non ho visto come si chiama Ma questo livello voto 7- Perché? Perché è più complicato decisamente di Di quello di prima Anche se in realtà è più o meno la stessa cosa come livello Però i tempi sono più stretti I tempi per prendere le reliquie di platino E poi con Tauna ci saranno un miliardo di casse nascoste al solito E questa volta diventano anche casse del tempo Non è come nel suo primo livello Poi dovremmo prendere tante scorciate Come per esempio la guardate Se stiamo su queste TNT E poi direttamente qui Che non sono delle cose complicate di per sé Però per impararle ci vuole qualche tentativo Quindi il voto aumenta Aumenta Ovviamente vi ricordo sempre che i voti sono una cosa soggettiva Una mia opinione Mia e non vostra Quindi se a voi questo livello è venuto più facile Rispetto a quello di prima È perfettamente comprensibile A me no L'ho dovuto riprovare più volte Quindi va bene Poi ci sono anche queste casse in salto Ci sono più casse del tempo E quindi aumentando le casse del tempo Aumentano anche Aumenta anche la difficoltà Perché è più difficile prenderle È impossibile? No Appunto ha un voto 7 meno Che non è un voto troppo alto Neanche troppo basso È un voto che sta Leggermente sopra il mezzo In medium Est Virtus Dicevano sempre I Persiani Allora Niente Siamo arrivati alla fine anche di questo Perché veramente sono dei livelli molto brevi Però guardate col tempo Quanto siamo Siamo a 43 secondi Mentre prima Avevamo già superato il minuto In questa parte del livello Ok Sono due livelli diversi E la parte con tauna Obiettivamente è molto breve Quindi Ok Però comunque vi assicuro Che per arrivare a 40 secondi qui Dovrete Fare qualche tentativo Diciamo così Prova a tempo Completata 46 secondi E 28 millesimi Bastano prendere le religie di platina Per portarci nel livello Fa con calma Che ha un voto 6 più Allora Allora parliamone Con calma Appunto Perché in realtà Questo è il mio primo tentativo In questo livello Per cui Io Ho dato un voto Basandomi più sulla difficoltà Del livello Che sulla difficoltà Della reliquia di platina In questo caso Ho fatto una media Comunque perché La reliquia di platina Obiettivamente Non posso dare un voto Alla reliquia di platina Perché Essendo il primo tentativo Avrei dovuto dare Non lo so Zero Perché quando una cosa Mi riesce Subito Subito Senza problemi Avrei dovuto dare Un voto minimo Ma Obiettivamente Questo livello Non è tanto semplice Io ci sono riuscito Subito perché Veramente sono stato Una schiappa assoluta Nel prendere La gemma Blu Per cui ho imparato Questo livello Praticamente a memoria Quindi Non ho avuto problemi Di nessuna sorta Nel completarlo Velocemente Perché appunto Per prendere La gemma Blu Ormai ho imparato Questo livello A completarlo Oppure Anche senza reliquia Nel modo più veloce Possibile O almeno No Non è nel modo più veloce Possibile Decisamente No perché Ovviamente C'è la reliquia Di Toys for Bob Che è 20 miliardi di secondi Inferiore rispetto Al tempo che faccio io Ma Non importa No Mi interessa Prendere la reliquia Di platino Che Vabbè Come tempistica Non so Quanto sia La reliquia Il tempo Della reliquia Di platino Io penso di esserci Arrivata al limite Perché non è che Sia andato proprio Benissimo Quindi Boh Comunque Il voto 6 Contratato 6 Più Perché appunto Questo livello Non è semplice Qui bisogna Saper usare La cano Veramente Molto bene Non ci sono Via di mezzo Potete ottenere La terza maschera Che vi aiuta Sì Ci sono tante maschere Ce ne sono Mi sembra Quattro All'interno del livello E vi aiuta Sì Ma non è per niente Indispensabile Onestamente Per cui Niente Fate le cose Per benino Prendete scorciatoie Quella Con la cano È facile Prendere scorciatoie Anche se in questo livello Onestamente Negli altri due Ce ne erano di più In questo livello Forse ce ne è un po' meno Ma nel prossimo Ce ne saranno tante Comunque Con un tempo Di 1 e 50 E 70 Non so Ripeto quanto sia Il tempo Della reliquia di platino Ma ce l'ho fatta Ma adesso C'è sbilanciamento Voto 8 Finora è il secondo livello Più complicato Secondo me Ovviamente In cui prenderà Le reliquie di platino Non è difficile Quanto modo Per surf elettrici Perché non c'è Quella maledettissima Motoslitta Aquatica Che complica Un bel po' Le cose Voto 8 Voto 8 In questo livello Perché Intanto Perché Pienissimo Di scorsatoie Che dobbiamo Imparare A prendere Per esempio Qui possiamo Fare direttamente Un salto Qui Sono cose Semplici Stupide Però Bisogna Saperle O inventarsene Perché In caso Le maggior parte Me le sono inventate Ho sperato Che andassero bene E poi Effettivamente Ho avuto i risultati Che dovevo dire Voto 8 Anche perché In questo livello Vabbè Oltre ad essere Un livello Complicato In cui È facilissimo Morire I tempi Per la reliquia Di platino Sono abbastanza Ristretti Perché Per un livello Così lungo Io mi sarei aspettato Dei tempi Più Larghi E invece No Dobbiamo fare Tutto Benissimo E Fare tutto Ancora meglio Di quando Noi facciamo Benissimo Perché ogni volta Io finisco i livelli E penso di essere andato bene E poi mi rendo conto Di aver fatto Schifo Nelle reliquie Di platino Ovviamente Quindi Niente Facciamo Molta attenzione Molta attenzione Cercate di usare La maschera di Akano Lo so che è strano Ma il meno possibile Perché rallenta Quindi se potete Fare qualcosa Senza utilizzare La maschera di Akano Fatelo Qui non so Perché non Mi viene tolta La maschera di Aku Aku Dalla testa di Drago Ma Meno male Perché Questa maschera di Aku Aku È importante Cercate di non perderle Se potete Questo è un altro consiglio Perché qui si può arrivare A tre maschere Con tre maschere E vi si facilita la vita Perché potete prendere I secondi Subito Quei secondi Che io invece ho lasciato da parte Perché non avendo la terza maschera Avrei dovuto perdere Più tempo Che altro Perché se avessi preso Tutte quelle casse La piattaforma Se ne sarebbe andata E avrei dovuto aspettare Il ritorno Insomma Un casino Non si fa così Però potevate avvisare Allora Ricordatevi di materializzare Queste casse Con l'aniloli Perché io lo dimentico Ogni volta E adesso Confessione time Io qui ero convinto Di non avercela fatta Perché non so perché Ricordavo che la reliquia di platino Fosse di 1.23 Quindi ho detto Vabbè non ce la faccio E quindi ho provato a fare Questo salto disperato Della fortuna Che non so come mi è riuscito Non fatelo se potete Perché È stato totalmente a caso Io non pensavo di farcela Farcela E non so neanche come si faccia Onestamente Però mi è riuscito 1.26.97 Ce l'ho fatta Squillino le trombe Papparappappà E questa parte è finita Ci vediamo nella prossima parte Di Crash Bandicoot 4 It's About Time In cui prenderemo Le gemme Della modalità invertita Nei livelli Del Prossima era Che non ricordo come si chiami Mi raccomando Mettete mi piace Adesso a fine parte Vi è piaciuta la parte Mettete mi piace Ovviamente scherzo solo Se vi va E ci vediamo domani Bye Bye